il 14 febbraio uscirà nelle sale finalmente l'alba il nuovo film di uno dei registi italiani più apprezzati sulla scena internazionale con noi saverio costanzo che piacere averti grazie 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 di aver accettato l'invito benvenuto grazie grazie fammi film lo diciamo subito che mi fa proprio tanto piacere dirlo che tu hai deciso di dedicare a tuo papà a maurizio quindi questo viene dedicato a maurizio costanzo e rende ancora più speciale il lavoro che c'è dietro questa tua questa tua ultima creatura allora finalmente l'alba diciamo che racconta una giornata fondamentale nella vita di una giovane ragazza nella roma dei primi anni 50 questa ragazza si chiama mimosa l'attrice rebecca antonaci bravissima peraltro questa ragazzina della roma popolare proletaria di piccola borghesia di papà falegnano accompagna la sorella cinecittà per un provino e la sorella molto bella molto graziosa deve fare un provino come comparsa invece lei si trova praticamente per un caso a essere presa lei in questo colossal al centro della scena americano si trova al centro della scena e vive e finisce a vivere nel vortice delle vite di questi due protagonisti di questo colossal americano che sono i due attori preferiti della sua vita e quindi quello che insomma che un sogno diventa realtà e vive questa giornata a metà fra l'onirico e il reale che però ha a che fare con tanti aspetti uno dei quali è l'ispirazione di questo film che è una vicenda di cronaca che è la vicenda di del forse ora una parola tristemente che conosciamo noi italiani in particolare che è femminicidio perché quello di Vilma Montesi in un certo senso è la storia di Vilma Montesi che accade nel 53 in aprile del 53 questa ragazza viene trovata morta sulla spiaggia di Capocotta tra l'altro non viene fatta l'autopsia non viene diciamo curata l'indagine sulla morte si sospetta che ci fossero personaggi piano piano sì perché piano piano le indagini diventano pubbliche cioè fu il primo femminicidio che in un certo senso diventò pubblico nonostante il tentativo di tenerlo sopito bravissimo perché ci furono i primi tabloid dell'epoca non c'era la televisione esatto che si cominciarono a occupare di questa cosa la gente diventò ossessionata ma non tanto da chi è stato non tanto dalla storia di Vilma Montesi quanto da chi era in un certo senso all'interno delle indagini del processo eccetera perché? Perché c'era il figlio di un ministro della democrazia cristiana perché c'era un musicista molto importante c'era tutto il mondo un po' dello spettacolo e della politica Vilma Montesi anche lei in qualche modo aveva a che fare con questo sogno del cinema ma no nel senso che lei era una ragazza che anche lei voleva lei voleva, faceva la comparsa e probabilmente voleva fare l'attrice infatti perché poi questo film secondo me racconta i passi in avanti che abbiamo fatto e quelli che non abbiamo fatto tra quelli che non abbiamo fatto sono giudicare come la gente a un certo punto aveva cominciato a fare Vilma Montesi in un certo senso responsabile se l'è andata a cercare, sai quelle cose? Sempre, ormai è un luogo comune che però ancora oggi accade allora se ti succede, se sei ragazza ma anche ultimamente l'abbiamo visto se la vai a cercare di conseguenza l'idea che fosse una poco di buono in un'Italia del 53 tu dici ok, nell'Italia del 53 fa la comparsa, va il cinema hai capito? se l'andata a cercare però nell'Italia del 53 la accetti adesso oggi diventa ridicolo e quindi tu attraverso questa storia così, questo intento poetico così assolutamente evidente cerchi di ridare una nuova possibilità a Vilma Montesi riscrivere la storia allora immaginiamoci che c'è all'interno di questi giorni dei 4-5 giorni dopo l'omicidio di Vilma Montesi una ragazza comincia a percorrere lo stesso percorso lo stesso itinerario di Vilma ma con un esito grazie a te tra poco Saverio torniamo a parlare di questo film ma io volevo dire che questo tuo ultimo film vanta un cast internazionale davvero importante che vede tra gli interpreti uno degli attori più iconici del cinema mondiale come ha girato oltre 100 film quattro volte candidato agli Oscar un orso d'oro alla Berlinale la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia è con noi ed è un grandissimo piacere averlo qui Willem Dafoe Willem Dafoe che tempo che fa che piacere averlo qui grazie mille grazie grazie a Roma incontrati qualche anno fa è un grande piacere ritrovarla 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 esatto 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 beh poi Willem Dafoe è sposato con una moglie italiana vive in Italia adesso lui ha la traduzione ma lei l'italiano lo capisce bene sì ecco qui devo stare attento non sono in grado di fare un'intervista in italiano non è vero non è vero ma va bene deve stare tranquilli dobbiamo stare tutti tranquilli senta grazie infinito lei ha lavorato con molti dei più grandi registri della storia del cinema da Wenders da Scusi da Herzog a Stone a Enders a Wenders a Scorsese insomma ha interpretato Lynch Lynch chiunque ha interpretato adesso sapere ok sapere la nostra stella con la grande poi ci dice tutto anche di altre cose dobbiamo sapere tutto di altre cose anche e lei ha interpretato film memorabili Platoon L'ultima tentazione di Cristo Spider-Man insomma è un grande piacere averla qui bello dirigerlo eh bello mi domando come c'è cascato no? come è capitato che a un certo punto William ha accettato di fare questo film è stupendo William è una delle persone più gentili generose è vero lo dico sempre anch'io dicono ha un'autorevolezza gentile sul set shall I leave? no devo andare via? no 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 è vero è vero è vero non notiamo tutti è fermo chiaro umile disposto per esempio che ne so racconto eravamo sul set una scena importante tante persone una lunga scena quella della festa e vedo William che è un attore che si concentra in mezzo agli altri non va nei camerini e rimane e stava seduto su una sediolina su una poltroncina lì a guardare allora gli dico William abbiamo del tempo a disposizione vai in camerino lui dice no io preferisco stare qua e studio le comparse e mi immagino che vita hanno cosa cosa desiderano cosa sognano cosa fanno e poi dopo tu ti ricordi no e poi dopo andava e va anche a chiedere se aveva ragione o no capito ma tu per caso tu fai per caso tu fai per caso I prefer to be on the set beh preferisco essere sul set nel fatto posso starmene da solo ogni qual volta voglio poi ogni occasione è utile per imparare per conoscere anziché anziché non bisogna sprecare mai le occasioni beh è un'avventura certo un set cinematografico è un posto speciale quindi io non so perché uno vuole andarsene nella roulotte e poi sa anche se insomma capisci come lavorano eccetera insomma riesci ad entrare molto meglio nel personaggio nella scena non riesco di immaginarmi che insomma vedi delle scene che a volte vedi nel film dove di fatto vai lì improvvisamente fai la scena e te ne vai via come fai a farlo voglio vedere come lavora la gente quello che succede in giro assolutamente è una cosa pratica ma quando è che ha capito c'è stato un momento in cui lei ha capito che lei non faceva l'attore ma era un attore beh sa il modo in cui sono arrivato a fare l'attore è stato strano non ho mai pensato che potesse diventare una professione certo ci ho provato ho recitato in teatro poi dopo aver fatto dei film ho capito che potevo mantenermi ho pensato ah sì guarda sono un attore diciamo un po' di tempo fa è successo 40 anni di carriera sono tanti Saverio tu invece questa è la prima volta che ambienti un film nella tua città sì è la prima volta e lo fai tra l'altro raccontando la Roma del cinema e degli anni d'oro insomma sì la Roma del 50 del primo dopoguerra diciamo gli anni d'oro in realtà quando tutti venivano a girare a Cinecittà sì è all'inizio di quel processo e poi è durato molto di più perché tutti gli anni 60 Roma è stato il centro del mondo cinematografico e invece non è la prima volta che lei recita a Cinecittà oh no no però è la prima volta che recita in italiano sì un lavoro un lavoro sì no molti mi hanno aiutato ovviamente ma scusi è stato molto insomma specifico perché sono qui fra chi parla in inglese e chi parla romano e insomma io sono un americano che è vissuto in America per un po' quindi il mio italiano deve essere buono quindi è difficile insomma farmi passare per uno che parla bene l'italiano però Willem adora il cinema italiano sua moglie è una regista no? Giada Giada con la grande quindi lei conosce benissimo i film italiani so che lui è appassionato di Stefania Sandrelli molto vero? ah lo sapevo you remember this si ricorda di questo si si è un poster in camera di Stefania Sandrelli beh lo capisco si no va bene adesso però non parliamo voglio di parliamo d'altro va bene senti tu Saverio per questo film è ricordata beh questa è un'immagine assurda perché è assurda? beh Giada è molto bella lei è bellissima io no ma noi abbiamo guardato abbiamo guardato lei abbiamo guardato lei per questo film tu hai ricostruito due sequenze due set che riassumono le due anime del cinema di quel momento da una parte il neorealismo italiano e dall'altro i grandi colossal storici americani che venivano girati lì che è un omaggio alla storia del cinema che però immagino sia anche molto divertente da costruire da girare sì è stato veramente molto divertente perché appunto non soltanto cambia la forma ma abbiamo messo in campo tutte le creatività anche dei nostri costruttori per esempio per quello che riguarda la scena egiziana non ci sono in realtà delle citazioni reali il gioco che abbiamo fatto è proprio questa questa è Alba il gioco che abbiamo fatto è proprio lavorare sull'invenzione anche della citazione perciò ci siamo messi in testa di fare che ne so un film neorealista all'inizio in bianco e nero ma che ammiccava però al cinema americano degli anni 40 dove c'era meno rigore del film neorealista e poi i Los Word and Sandal che poi noi chiamiamo Sandaloni che sono quelli diciamo per una Cleopatra ce n'erano 100 sotto che erano dei piccolissimi film o comunque dei film che provavano ad avere quel tipo di pubblico allora lei signora Dufo interpreta un mercante d'arte americano trapiantato da molti anni in Italia amico di questo entourage del cinema è un personaggio ambigo un po' a metà insomma a metà nel senso che frequenta quel mondo ma apparentemente ne è strano insomma conosce le regole del gioco ma non è perfettamente integrato è vero e credo di fatto è bellissimo perché io sono una specie di trade union cioè io sono uno che è un po' in un mondo e un po' nell'altro e sono un po' un protettore perché immediatamente io sono un outsider rispetto a questa situazione quindi a volte insomma ma sì è un bel ruolo è un bel rapporto questo Saverio questo che sta dicendo D'Affo ci introduce in questo appunto in questo lui dice sono il mezzo di comunicazione fra questi due mondi ma è tutto giocato fra questi due mondi questo film è il confine è un film che racconta il confine che c'è fra la vita reale e la vita sognata fra quello che appare e quello che è e Mimosa nella sua ingenuità disarmante sperimenta in una notte una vita che non era nemmeno in grado di sognare e che non è in grado di decodificare c'è il senso che non si rende nemmeno conto se quello che sta vivendo è un bel sogno è un incubo non parla neanche l'inglese non parla inglese infatti Willem ha anche una funzione come dire di tradurle dove non capisce dove c'è una grande mancanza sperimenta la vita tutta in una notte diventa donna in una notte prende coscienza diciamo che non contano tanto le aspettative che gli altri hanno su di te quanto te come persona e perciò diventa da che come dire era una comparsa della propria vita diventa protagonista non esce benissimo il mondo del cinema ma non è vero secondo me non è vero perché poi in realtà c'è un c'è un senso tragico sì sì ma l'attrice Lily James che fa diciamo questa diva Giuseppina Esperanto questa diva degli anni degli anni d'oro dunque immaginiamoci Ben Davis la Crawford insomma queste attrici attrici di quell'epoca in realtà è come se fosse anche un po' un dialogo fra questa donna degli anni 50 che per avere potere e libertà di fare ciò che voleva doveva come dire continuamente compiacere l'aspettativa che il maschio aveva su di lei e perciò essere sempre seduttiva pensiamo a Marilyn un'altra di queste e in un certo senso lei dice a Mimosa nel corso del film anche nelle cose che accadono quello che ho fatto io tu non lo devi essere perciò tu dovrai imparare ad essere ancora più consapevole di chi sei fino in fondo qui insomma si intreccia questa storia con quella di Vilma Montesi abbiamo detto ma tu hai voluto dare un destino diverso a questa tua protagonista rispetto a quello di Vilma Montesi sì perché all'inizio io volevo fare un film su Vilma Montesi però certo più andavo avanti a concepirlo a pensarlo a scriverlo e più la fine andava andava verso un grandissimo una frustrazione ecco non solo di non sapere la verità ma anche questa ragazza abbandonata sulla spiaggia poi non c'era più e allora ho immaginato e se per ridare vita in un certo senso anche a Vilma Montesi immaginiamo che un'altra persona più fortunata certamente che incontra persone che l'aiutano anche a venirne fuori facesse lo stesso percorso lo stesso sentiero camminasse nello stesso se si passi se si passi ma che però poi diciamo questa storia dà un esito diverso ecco alla 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 morte poi come dire sì sì questa era l'idea poi c'è dentro anche l'impressione fino in fondo che potrebbe veramente accadere di nuovo perciò anche un viaggio nel tempo come se esci da quella festa e non sei più negli anni 50 ma sei oggi anche questa con tutto il mio gruppo di lavoro era la nostra intenzione e perciò che ci fosse veramente un dialogo tra il passato e il presente per capire i passi in avanti che abbiamo fatto e quelli che invece non abbiamo fatto e anche in questo caso Vilain Daffo è il traghettatore lui è il nostro caronte è il nostro caronte che è il traghettatore che appunto porta da una parte e dall'altra queste anime disperate queste persone che lei porta a vedere questo mondo ecco se lei mi mette in questa situazione certo devo prendere una distanza sono parte di questa cosa ma anche distanza cioè devo stare tranquillo rispetto perché tutti sono un po' intrappolati nei loro ruoli ma io sono un pochino distante quindi diciamo io abbraccio questo ruolo mi devo occupare di lei semplicemente perché sono gentile come essere umano però poi anche perché a un certo livello io mi identifico con lei perché sono davvero un po' distante rispetto agli altri questa è la bellezza di questo rapporto praticamente semplicemente insomma per una serata di questo genere è così è un ruolo bellissimo il mio infatti proprio di fronte alla prova più difficile che questa ragazza deve superare il personaggio di Willem potrebbe interrompere questa iniziazione ma da qualche parte proprio perché c'è tra di loro evidentemente una purezza che li fa somigliare non blocca l'evento ma lo lascia andare secondo me quella è proprio una chiave per capire il rapporto fra di loro e il personaggio di Willem complimenti davvero proprio bellissimo senta ma lei da quanti anni vive in Italia? è imbarrassante chissà all'inizio non ero troppo qui però insomma cerco di passare sempre più tempo quindi lavoro molto quindi sono praticamente sempre in giro per lavoro però insomma quando non lavoro diciamo che comunque ho sempre una casa a New York però sono la maggior parte dei casi del tempo qui quindi è difficile dare una risposta esatta ma ho incontrato mia moglie per la prima volta vent'anni fa quando stavo girando un film che si chiamava Life Aquatic che è di Wes Anderson ed ecco perché ci siamo conosciuti e lì la mia storia è iniziata altro film girato a Roma Cinecittà altro film girato a Roma era Cinecittà ho fatto tanti film a Cinecittà ma Life Aquatic era Cinecittà sì un po' in parte e la moglie gli ha insegnato il cinema italiano a conoscere tutto il cinema italiano e anche le canzoni italiane vero? sì sì qual è la sua canzone italiana preferita? ah 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 non lo so ma lei sa insomma ho iniziato a imparare l'italiano in un modo stranissimo attraverso le parole delle canzoni di Franco Battiato perché mi piaceva tantissimo la sua musica e poi col passare del tempo davvero è diventato un grande amico nostro e quindi per me è stato un grandissimo regalo ecco perché conoscerlo perché era una persona meravigliosa assolutamente Franco era una persona assolutamente speciale e allora facciamo così per ricordarvi l'uscita di finalmente l'alba il 14 febbraio per ringraziare Saverio Costanza per ringraziare tantissimo Willem Dafoe finalmente l'alba e in bocca al lupo anche per se mi permetti per povere creature che insomma è candidato agli Oscar quindi insomma grandissimo in bocca al lupo a lei grazie per essere stati qui finalmente l'alba grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti